Onorevole Fittora, a nome dell'ECR. Vorrei dire alla Commissaria che ho apprezzato molto le considerazioni della sua introduzione perché ritengo che molti delle questioni rappresentino un po' un programma coerente con il lavoro che dobbiamo svolgere in questa Commissione. La domanda che vorrei rivolgerle è relativa alla condizionalità macroeconomica. Il Parlamento europeo ha votato contro questa previsione in materia di disposizioni comuni sulla politica di coesione. Le volevo chiedere qual è la sua posizione su questo punto, soprattutto se lei può assicurare questa Commissione che la Commissione europea non prenderà altre iniziative in merito. E in secondo luogo, sempre relativamente alla condizionalità, la Commissione uscente ha sul quadro finanziario pluriannale proposto una nuova condizionalità, quello dello Stato di diritto, finalizzato a sospendere i fondi per gli Stati membri che violano appunto queste previsioni. La Corte dei Conti ha sollevato il problema per un eccesso di potere discrezionale ed eccessivo. Lo stesso Parlamento ha dato solo un supporto parziale. Qual è la sua opinione in merito a questo? Onorevole Deputato, la ringrazio per la sua domanda. Per quanto riguarda la macro-condizionalità o condizionalità macroeconomica, io come membro di questo Parlamento in passato avevo già richiamato l'attenzione sui rischi legati all'applicazione prociclica della macro-condizionalità perché si potevano penalizzare attori quali le piccole e medie aziende, le regioni, i comuni che non avrebbero avuto la capacità, la possibilità di modificare alcunché a livello di gestione delle finanze pubbliche. Ora, mi fa piacere che la Commissione europea presenti proposte che non ritirano questa macro-condizionalità. Qui parliamo dello Stato di diritto. In questa proposta della Commissione però ci sono elementi che mitigano l'applicazione di questo sistema. si fa appello al principio di proporzionalità e poi non c'è un'applicazione, ripeto, automatica che sicuramente non sarebbe auspicabile, ma le regole di base restano. Poi c'è un altro aspetto importante per me. Nel caso di forti crisi economiche la Commissione europea può proporre al Consiglio di ritirare questa sospensione di pargamenti. Per quanto riguarda ora la valutazione dello Stato di diritto, ma qui parliamo ancora una volta di regole europee, qui sono in gioco questioni di principio e quello che possiamo fare noi e applicare il diritto e la gestione dei fondi richiede che i Paesi siano riconosciuti come Paesi che rispettano le regole democratiche e istituzionali. Dunque se ci sono rischi costanti da questo punto di vista per un Paese, la Commissione si vede obbligata ai sensi dei trattati di mettere in questione ed eventualmente sospendere questi pagamenti. Questi sono i due temi che lei ha sollevato e queste sono risposte che posso dare in questo momento. Un'altra domanda che lei vorrei fare è relativa al patto di stabilità sulle risorse del cofinanziamento nazionale. Lei non ritiene che sia, questa è una battaglia di questa Commissione, che più volte abbiamo fatto, utile e necessario provare a mettere in discussione come esclusi dal conteggio del patto di stabilità le risorse di cofinanziamento nazionale dei programmi di politica di coesione? Il mandato fissato negli orientamenti e nel discorso della Presidente eletta van der Leyen vedeva alla base la possibilità di ridurre i margini di intervento al patto di stabilità. In passato ne abbiamo già discusso in questo Parlamento, abbiamo parlato dell'introduzione di una cosiddetta regola d'oro, ora però non si possono fare suggerimenti isolati, ci sarà un'intera revisione che verrà avviata e quello che posso dirle è sì, è vero, questo tema merita una discussione alla Commissione e io vi parteciperò sotto il coordinamento del Vice Presidente designato Dombrovski e del Commissario designato per l'economia alla costruzione di una revisione del patto ed elementi come questi, è vero, non possono essere esclusi a priori ma debbono essere valutati. Grazie. Grazie. Grazie.